Buongiorno, sono Eleonora Datti, l'Audi Host della Bossoni Automobili di Cremona. Buongiorno, sono Igor Sartori, l'Audi Expo della Bossoni Automobili di Cremona. Siete pronti a un entusiasmante test drive digitale? Oggi vi porterò a fare un esclusivo test drive digitale a bordo di nuova Audi Q8. Venite con me. Nuova Audi Q8, la punta di diamante della famiglia Q, racchiude tutta l'eleganza e la sportività del design Audi in soli 4,98 m. A bordo lo spazio è più di un concetto, grazie alla flessibilità e alla tecnologia all'avanguardia, come le telecamere a 360 gradi, il dry select, l'assetto con regolazione degli ammortizzatori, l'adaptive air suspension, lo sterzo integrale e la famosa trazione 4. Vi è piaciuto il test drive digitale? Aspettiamo il concessionario per un test drive su strada. Alla Bossoni Automobili di Cremona, mi raccomando! A presto! Arrivederci! L' içi un casoona, il richello è unbru commercial. Grazie a tutti.